Il GIP del Tribunale di Patti, Eugenio Alicò, ha archiviato l'inchiesta sulla morte di Viviana Parisi, 41 anni, e del piccolo Gioele, di quattro, trovati senza vita nell'agosto del 2020 nelle campagne di Caronia. Il giudice ha così accolto la richiesta della Procura, motivando la decisione con un provvedimento di 495 pagine. Secondo quanto ricostruito dalla Procura nella richiesta di archiviazione presentata lo scorso luglio, la donna si sarebbe suicidata. Il gesto potrebbe essere legato alla morte del piccolo, anche se non c'è certezza assoluta su questa ultima ipotesi. Siamo molto delusi, ha commentato Carmelo Lavorino, criminologo e consulente dei legali di Daniele Mondello, padre di Gioele e marito di Viviana. Quando potremo leggere le motivazioni vedremo se sarà il caso di ricorrere in Cassazione e fare ulteriori indagini difensive. Interviene anche il procuratore di Patti, Angelo Cavallo. Il GIP ha confermato quanto da noi affermato nella richiesta di archiviazione e in particolare ha sottolineato il quadro complessivo che è emerso, quello di una donna fragile che aveva più volte dato segni pericolosi sottovalutati dai familiari, in particolare dal marito Daniele Mondello, ha commentato Cavallo, che ha poi aggiunto «spero che ora si metta la parola fine a questa vicenda». Sembra chiudersi così la tragedia legata alla morte di madre e figlio, scomparsi il 3 agosto 2020 dopo un incidente stradale sulla A20 nei pressi di Caronia. La donna, in preda allo shock, con suo figlio Gioele si è addentrata nelle campagne sottostanti, facendo perdere le sue tracce. L'8 agosto il corpo senza vita di Viviana viene trovato ai piedi di un traliccio dell'alta tensione. Il 19 agosto viene ritrovato anche quello del piccolo, dopo una battuta di ricerca organizzata da Daniele Mondello. Uno dei volontari, Pino Lobello, ex carabiniere in pensione di Capodorlando, troverà ciò che resta del piccolo Gioele a poche centinaia di metri, da dove è stato trovato il corpo della madre. Quello che è accaduto nelle ore immediatamente successive alla loro scomparsa non si saprà mai per certo.